Hanno tagliato a metà la cassaforte e poi sono fuggiti con un bottino di gioielli per un valore di circa 10.000 euro. Ancora un colpo messo a segno in Valtiberina, dove lo scorso fine settimana è stata svaliggiata un'abitazione in località Mellello, a pochi passi dallo svincolo della E45. La banda sarebbe entrata in azione nel tardo pomeriggio, grazie all'apertura di una tapparella si è introdotta nell'appartamento e dopo aver rovistato tutte le stanze e raccolto circa 200 euro in contanti, si è diretta verso la cassaforte. Quindi l'hanno aperta con un flessibile, portando via circa 10.000 euro tra gioielli e preziosi. Al bottino poi si aggiungono anche alcuni flaconi di detersivi e prodotti per la casa. Infine, la fuga. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sansepolcro, al vaglio degli inquirenti e anche le immagini degli impianti di videosorveglianza. Una vettura sospetta, un Audi A5, rubata alcuni giorni prima a Roma, è stata immortalata dalle telecamere e lettura targhe nel territorio di Sansepolcro poche ore prima del colpo. La stessa auto è stata intercettata dai carabinieri alla periferia di Terni. I malviventi, nel tentativo di fuggire, hanno addirittura speronato la macchina dei militari, superando così il posto di blocco.